Allora, come ti chiami? Ciao a tutti, io mi chiamo Marco, vengo da Brescia e ho 54 anni. Io erano mesi e mesi e mesi che non sorridevo più e se per caso sorridevo mi mettevo la mia bella mano davanti per non far vedere il disastro che ormai avevo in bocca. Sono sincero, prima ho cercato in Croazia, Albania e poi dopo invece ho scoperto SOS Turismo Dentale su Facebook, su internet e continuava a venirmi i video. Ho cominciato a vedere il primo, il secondo, mi sono informato, ho chiesto, richiesto e mi hanno detto tutti che il top era qui in Moldavia. Poi ho mandato la mia panoramica al dottore, il dottore in 4-4-8 mi ha risposto e mi ha dato una speranza, sinceramente, perché di lavori fatti male in Italia ne ho subiti parecchi e ho buttato via anche tanti soldi. Sono state molto, molto, molto soddisfatto, molto, soprattutto nella fine del primo step, perché già partire dopo una settimana e avere tutti i denti in bocca, perché non è così scontata la cosa, tutti i denti in bocca, io sono partito da qua con lo spirito molto sollevato. Qui invece ho trovato una grande disponibilità, una grande professionalità e una grande famiglia, devo dire. Molto bravi, molto preparati, pur essendo molto giovani, il primo impatto è quello di dire oddio, sono giovani e poi invece pensi ma avranno esperienza, non avranno esperienza, invece hanno un'esperienza gigantesca a confronto dei dentisti italiani, che pur avendo magari molti più anni, invece qui devo dire ha trovato una grandissima professionalità. Se dovessi dare una votazione con le stelline partirei da 5, semplicemente perché siete tutti a disposizione per noi pazienti, che è una cosa importantissima. Abbiamo dei dubbi, abbiamo un referente, abbiamo un chirurgo, abbiamo un protesista che ci aiutano per tutto questo percorso ed è un percorso bello ed intensivo, però ha grandissimi risultati qui.